Bella a tutti Broiz, Juventus-Napoli se l'anno scorso era questo il vero big match del campionato quest'anno a fermare la nostra avanzata verso il sesto scudetto consecutivo ci sono anche la Roma e il Milan eppure Juventus-Napoli è sempre una partita molto ostica e molto sentita quest'anno in primis sarà sentita molto dal Pipita che rivedrà i suoi ex compagni e dovrà dar prova del fatto che i 90 milioni spesi sono varsi la pena Juventus-Napoli è anche uno scontro tra tifoserie io spesso leggo qui sotto nei commenti vari insulti o prese in giro dai napoletani e oggi cercherò la mia rivincita sto cercando le formazioni noi schieriamo Hernanes e lì davanti Mandzukic e Higuain perché sono gli unici due che abbiamo mentre loro ci rispondono con il tridente Mertens-Callejon in signe tutto pronto l'attesa è finita come dice Sandro Piccinini partiti ma quanto cazzo è attillata la maglietta del Napoli comunque Bonucci c'è poco da dire ma è proprio un coglione è proprio un coglione Mandzukic in contropiede Mandzukic la c'è dal Pipita il Pipita con calma è messo giù fallo fallo per la Juve ditemi il senso di mettere in signe in barriera perché è come se non ci fosse però vabbè ogni volta che la palla ce l'ha Hernanes prima che la palla arrivi a qualcun altro è un parto ragazzi è veramente qualcosa di pesante, lento, macchinoso Hernanes no, non succederà mai il Pipita il Pipita no, troppo lunga per Mario Mandzukic esce Reina è bello perché tirano meno male che era in fuorigioco perché si è mangiato un gol che guarda l'avrai ammazzato che lancia lungo è uscito a vuoto Lich no ma tienila bassa la palla Lich coordinati con calma hai ammazzato quello che sta lì in piccionaia poverino Rocchi, caro mio Rocchi non stai arbitrando bene due gialli in un minuto alla Juve Lich bella Lich bella qui è giallo giallo anche per i sinie bravo arbitro, bravo problema al flessore per Chiellini e Allegri sinceramente mi stupisce perché mette dentro quadrado c'è poco da dire però come l'anno scorso contro Lewandowski Mandzukic in queste situazioni io lo amo c'è uno che ci mette la grinta fa lo stronzo mamma mia Mario mamma mia Mario finisce qua al primo tempo 0 a 0 una partita veramente scadente di emozioni e poi soprattutto perché gioca Hernanes Allegri Lemina è espulso non può giocare in Champions perché non lo metti dentro adesso non ti dico neanche di mettere dentro Marchisio che deve ancora recuperare un po' alla volta ma Lemina Lemina è 100 volte meglio rispetto a Hernanes in attacco non è che possiamo cambiare molto perché gli uomini sono quelli quindi cerchiamo di sistemare bene il centrocampo Pjanic Pjanic dai Miralem dai dai raga dai raga che ci siamo ci siamo telenovela Pjanic dalla bandierina 49esimo minuto in corso la mette un po' lunga un po' carina stacca di testa non arriva nessuno Alessandro rimane lì la cicca Pjanic e gol di Bonucci cosa ho detto l'avevo detto era una partita da gol di Bonucci era una partita da gol di Bonucci Leo Bonni Bonucci Bonni Bonucci sciacquatevi la bocca dice 1 a 0 mamma mia la palla è rimasta lì in mezzo all'aria e l'ha messa dentro l'ha messa dentro Caglieon 1 a 1 Napoli 1 a 1 Napoli la difesa dice ciao ciao lascia libero Caglieon bellissimo il taglio e anche il lancio di insignie vai vai Higuain bella che tira no Higuain Higuain il Pipita non esulta ma tanto la butta dentro Gonzalo Higuain 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 Gonzalo un missile terraria che si insacca Gonzalo Gonzalo Higuain Higuain contro piede Juve Pipita cambia tutto benissimo per Juan Guilherme Quadrato che la mette giù va subito al cross è bello no la sponda non ci arriva non ci arriva che tira è finita è finita e andiamo e andiamo ragazzi 2 a 1 anche a Napoli guardalo lì il barbuto Higuain che li ha purgati vi ha purgato napoletani vi ha purgato vi ha purgato Gonzalo 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 Higuain eh sì Gonzalo Higuain avete sentito bene Gonzalo Higuain poi vabbè ha fatto bene a non esultare però Gonzalo Higuain detto questo raga non mi perdo in altre parole perché Gonzalo Higuain Gonzalo Higuain se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace se non l'avete ancora fatto iscrivetevi passate la pagina facebook link in descrizione commentate condividete questo video e bella a tutti broiz grazie Grazie a tutti.